La caccia insieme doveva fissare una decina o due decine, perché anche lui le uno doveva fare passaporti, porto d'armi, doveva in questura si chiedeva a faccia regali, ma di molti regali per ungere, per fare tutti questi lavori, e intanto busca, guadagna, e tutti gli anni c'era sempre cinghiale, dei pezzi di cinghiale in più, lo comprava e glielo portava, e stanno non c'è, non c'è sì che c'è un po' da fare, e lei non ce n'è cinghiale, sono diminuiti, c'è delle cose che vanno di contrabbande ammazzarli, ammazzano tanti, avviso, è un pasticcio, quest'anno poi si è ammazzata un po' dall'Arezzo, se si è ammazzata dentro la riserva d'Arezzo, poi fuori quasi niente, fuori niente, avviso, finché quest'anno cinghiale ce ne toccava poco, anche domenica a San D'Arezzo si è ammazzato 10, ma ce ne toccava un punto. Grazie 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 Grazie